Amico, ti ricevi ombre? Ho un problema qui, roba grossa. Ti vadi! Farei una scappata, ti mando le mie coordinate. Vieni appena puoi, amico. Grazie per la visione! 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 Vi stiamo inviando supporto navale! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 Questa è la nostra rivoluzione. Ma lui... Mario. Conosco Tom Sheldon. Ho lavorato con lui per anni, ma tu sei un amico. Devi dirmi la verità. Mi dispiace. Ti senti in atto, le probabilità di morire di morire di morire di morire di morire in modo orribile sono molto alti. Ehi, non è per te. sembra che la sua barca. puoi aiutare di morire 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 di mor Grazie, Rico. Non dimenticherò. Rico, puoi usare qui Bengala per chiamare i miei ragazzi e farti trasportare attraverso l'isola. Facile e veloce. Puoi infilarci anche una siesta se vuoi. Vieni, lascia che ti dia un passaggio a Manea. È molto vicina a Vigilator Nord. Grazie a tutti. 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 Ascolta, i militari non sanno che stiamo seguendo il loro informatore. Dobbiamo liberarci di loro, ma deve sembrare un incidente. Schianta il veicolo, ma salta fuori all'ultimo secondo. Dove ho trovato questa limousine? Dallo sfascia carrozze. È impossibile avere un servizio decente su quest'isola. Forse hai un futuro nel controspionaggio, dopo tutto. Oh. 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 Siete sicuri di volerlo fare? Più uomini! Più uomini! Inganchiamo il bersaglio. A tutte le unità, convergere su queste coordinate. Avvio del protocollo di ricerca. Trovatelo il prima possibile. Vediamo il controllo. L'invio di altri rinforzi è stato approvato. Dovrebbero essere in posizione tra poco. Ok. Un lavoro pubblico. Un lavoro pubblico. Un lavoro pubblico. A tutte le unità allerta, ristabilire il contatto visivo. Un lavoro pubblico. Un lavoro pubblico. Bersaglio in libertà, ristabilire il contatto visivo immediatamente. Un lavoro pubblico. 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 Grazie a tutti. 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 Siamo in libertà. Ristabilire contatto visivo immediatamente. Siamo in libertà. 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 Elicotteri di supporto in arrivo al punto di contatto. Attenzione. Siamo in libertà. 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 Che cazzo! Che cazzo! Sto arrivando! A tutte le unità allerta, ristabilire il contatto visivo. Che cazzo! 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 Oh, ma che bellezza! Cosa succede lì? Rispondete immediatamente Questa è roba mia Sei un grande, Rico Rico, amico, che cosa fai? Scatena l'inferno, Rico Scatena l'inferno Scatena lì Scatena lì Cosa scatena lì Scatena lì Scatena lì Scatena lì Scatena lì Cosa scat大丈夫 Scatene lì Grazie a tutti 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 Sono qui Grazie a tutti Pericolo Contenuto Grazie a tutti 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 Non Grazie a tutti 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 Grazie a tutti